L'importanza della comunicazione tra le varie società scientifiche è la base per fare in modo che la società di fisiatria possa entrare a collaborare nell'interesse del paziente nelle varie branche specialistiche. È troppo importante perché si evita la logica di ragionare per patologie semplici ma per patologie complicate perché un paziente che comunque ha un fatto offensivo della propria salute in realtà deve confrontarsi con dei problemi sanitari estremamente complessi. Quindi la cosa più importante è fare in modo che attraverso FISM le società scientifiche collaborino tra di loro. Questo è il vero goal che noi vogliamo portare avanti.